Grazie Presidente. Colleghi, signori dell'amministrazione. Presidente, se mi permette, dovrei fare una comunicazione istituzionale. Posso? Grazie. Leggo testualmente. I sottoscritti consiglieri comunali appartenenti al gruppo di Forza Italia Stefano Pennisi, Valentina Pulvirenti e Camilla Grasso, dopo un periodo di riflessione siamo giunti alla conclusione che non ci riconosciamo più all'interno del progetto politico del partito di appartenenza. Così abbiamo maturato la scelta di confluire al gruppo misto, proseguendo l'attività politica, sedendo fra i banchi dell'opposizione, votando i provvedimenti ritenuti positivi e criticando quelli che, secondo il nostro punto di vista, non lo sono. Da oggi iniziamo un percorso politico da indipendenti, continuando ad avere nei confronti dei nostri cittadini lo stesso senso di responsabilità. Comunichiamo pertanto la propria irrevocabile fuoriuscita dal gruppo di appartenenza Forza Italia, con conseguente confluenza al gruppo misto. Grazie Presidente.